Fare chiarezza sul mancato utilizzo del 400.000 euro che la Regione Abruzzo, attraverso un emendamento del capogruppo azzurro Mauro Febbo, votato all'unanimità, ha destinato ai lavoratori di La Panoramica, azienda di trasporto pubblico cittadino. I soldi sono già nelle casse delle comuni di Chieti, vincolati per oneri contrattuali a favore dei dipendenti e la Giunta Ferrara ne ha rimutilato l'utilizzo, destinando 250.000 euro ai dipendenti e 150.000 alle corse bis che la società La Panoramica, tra l'altro, non sta facendo. Problemi sollevati dall'interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia in Comune Costa. È anomala che la società di trasporto della città non reperisca ciò che ha deliberato la Giunta. Le 400.000 euro messe a disposizione della Regione per tutta la controversia che ci sono i dipendenti e così si mette a tacere la situazione dei dipendenti. Poi le 150.000 euro messe a disposizione, sembra della Panoramica, per le corse bis che oggi non si sta facendo è una cosa anomala, anche perché la legge parla chiaro. Le corse bis vengono rimborsate automaticamente dalla Regione tramite lo Stato. E quindi i dipendenti fanno benissimo a protestare perché i soldi oramai ci sono, il Comune ha fatto anche la sua parte deliberando queste risorse e che la Panoramica non vuole prendere e non capisco per qual è il motivo. Io ho presentato appunto l'interrogazione per avere chiarezza e contesto di quello che sta succedendo all'interno di questa amministrazione. Cosa chiede ora, nello specifico e politicamente all'amministrazione Ferrara? Chiedo appunto che si facciano proprio portatori di queste nostre richieste, ma più che altro dei dipendenti della Panoramica che hanno tutti i diritti ad avere quel scatto sullo stipendio, quella somma che sta liberata e poi che venga erogato subito. Ci sono i soldi, sono nelle casse del Comune, il Comune ha deliberato, bisogna solamente girarle alla società. Perché non vuole? Perché non vuole?